E poi finalmente per noi è ritornare a riavere, a rimpossessarci dell'isola come era prima della notte del naufragio. Quindi di ritornare ad essere l'isola del Giglio, non l'isola della Costa Concordia. E questo per i gigliesi è importante, perché ci si riappropria della nostra identità, della nostra vita. Un Giglio che torna alla normalità, prova a tornarci, la nave manca, non manca? Insomma l'abbiamo chiesto a un po' di gigliesi, vediamo che cosa ci hanno risposto. Ma questa fantomatica normalità è tornata? Ma ancora siamo sempre un po' sotto sopra, caro lei, non ci voleva questo disastro. A distanza di tre anni sentite ancora il peso? Sì, sì, abbastanza. Sentiamo il peso, prima Pescottini che ancora non è stato ammesso alla galera. Basta, ecco, è quello che non mi va giù a me. Ma non vi manca? Il mostro? No, no, proprio no. Sembrava una balena morta, no, era terribile. Insomma, è tornato il Giglio di prima? Sì, è tornato il Giglio di prima, di fatto è tutto chiuso, non è aperto nulla. È tutto chiuso. Dici, magari poteva cambiare un po' la mentalità, qualcosa poteva... È tutto chiuso, è difficile trovare un negozio aperto. È il Giglio di prima, è cambiato qualcosa. È uguale, è uguale. La stessa cosa. La nave manca? A chi manca?